E' dura perché abbiamo appena finito la rappresentazione, la Via Crucis, ma in un modo molto particolare, come si fa di solito quando c'è Don Guido che guida queste cose. Quest'anno il personaggio clou è stato il buon ladrone, però naturalmente l'attenzione va tutto su Gesù. Massimino Schettini è Gesù quest'anno, veramente fisicamente e anche col viso ci sei. Che emozione hai provato? Tutt'ora sono molto emozionato, quindi scusatemi se... Beh è un'emozione fortissima perché in quei momenti ti cali proprio nel personaggio e quindi insomma un'emozione proprio indescrivibile. C'è poco da dire insomma. Avete visto insomma l'attenzione, la profondità dell'interpretazione insomma un po' da parte di tutti quanti. Insomma c'è poco da dire. Bellissima, una sensazione bellissima, indescrivibile. Grazie Massimino. Allora non potevamo fare questa grande via cruci perché quest'anno veramente è stata una cosa bellissima, senza Don Guido perché è lui poi in effetti il trascinatore, quello che studia, che scrive. Oltretutto l'ha scritto lui, per cui come ti è venuto Don Guido sta cosa? No, a me il personaggio del Buon Ladrone è stato sempre un personaggio che mi ha sempre toccato dentro perché là si vede l'umanità di Gesù che sa toccare anche i cuori più induriti come quello di un malfattore. E poi è un personaggio nel quale come dicevo anche all'inizio della rappresentazione ci possiamo riconoscere un po' tutti quanti noi perché tutti quanti siamo dei malfattori che anche all'ultimo momento vogliamo cercare di rubare il paradiso. E ci riusciamo perché Gesù non va altro che accoglierci, volerci bene e portarci con sé. E' stata un'esperienza bella perché quando io l'ho proposta a loro che fanno ogni anno questa rappresentazione e poi ho scelto Gerardo perché mi è sembrato il personaggio proprio indicato, la figura indicata perché sa scherzare, sa far ridere ma sa far veramente anche piangere e sa toccare anche i sentimenti. Ti ringrazio di questo. Allora a questo punto fammi una domanda tu a me. No, io vorrei sentire quando hai interpretato quella parte sulla croce, che cosa hai provato dentro? Anche quando eri nel carcere con Gesù, quali sono stati i sentimenti più profondi di te? Guarda Don Guì, è difficile, è difficile spiegartelo. Non lo so, forse soltanto un uomo di fede come sei tu può suggerirmi le parole perché è stata veramente una cosa, ma veramente dal profondo, basta. Non dico del cuore, ma dal profondo dell'anima proprio perché ritrovarsi a fare un personaggio sulla croce a fianco a Gesù perché in quel momento non era Massimino, per me in quel momento era Gesù. E allora non lo so, non ho parole Don Guì, non ho parole. Grazie a te. Grazie. Osvaldo. Allora, come al solito in tutte le rappresentazioni, sia comiche che drammatiche, ormai siamo un gruppo ferreo, si può dire. Allora, penso che lo conosco un po' tutto, Osvaldo Cozzi che ha rappresentato? Io ho rappresentato a non sommo sacerdote, colui in effetti che ha rappresentato, appilato Gesù di Nazareth, quindi ha chiesto la condanna di Gesù di Nazareth, un personaggio storico della Passione di Cristo. Mi sono calato in questo personaggio con tanta fede perché siamo alla terza edizione della Passione di Gesù e ognuno di noi, come diceva Don Guido, non recita ma lo fa veramente impersonificando il personaggio che gli viene assegnato. Osvaldo, è inutile, tu forse l'hai visto di più di noi, in pratica abbiamo fatto altri ruoli, per cui siamo stati un po' staccati dalla cosa. Tu l'hai vista tutta, dunque volevo sapere un giudizio su questa cosa. È stata un'esperienza molto positiva, è molto emozionante le scene del Calvario perché tutti i personaggi hanno veramente dato tutto quello che riuscivano a dare, hanno messo veramente l'anima nell'interpretare i personaggi del Vangelo. Ti ringrazio. Allora Domenico Iaria ha fatto il cattivo ladrone. Domenico tu forse non ti sei mai espresso su un palco, su una rappresentazione. Questa è stata piuttosto impegnativa come per la prima volta. Che cosa hai sentito dentro? Ma guarda, oltre al freddo ha una sensazione così, secondo me, unica che si può sentire perché per me è stata la prima volta, ma fare questo personaggio, vedere Gesù, trovarci in mezzo a questa situazione ti viene un'emozione pazzesca. Mi auguro di rifarla l'anno prossimo, però niente, c'è solo emozione, niente di più. Grazie tante Domenico. Monica, non cito, la nostra Maddalena. T'ho visto alla croce, t'ho visto piangere, ma veramente. Guarda, non lo so, è perché pensi che sia successo veramente, o è perché ci siamo veramente medesimati tanto nella parte, ma la scena della crocifissione è una scena che prende, prende molto. Poi sia i due ladroni che Gesù Cristo sono stati veramente reali, era come se stesse succedendo davvero questa cosa. Quindi chi non si commuove davanti a una scena del genere, è solo chi non ha cuore, bravissimo, cuore. Allora, volevo ricordare, Filippo non c'è, Filippo è il marito, Filippo Gabriele, non c'è. Giuda. Giuda, ma come al solito hai interpretato. Quella è un'altra scena dove io pianto perché comunque... Il piccolo non l'avete portato però, il piccolo? No, 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 stasera no, era con la nonna in giro, lo cerco perché dobbiamo andare a casa. Ti ringrazio. Grazie, grazie. Allora, Francesco Alaggia, diciamo il capo dei soldati. No, il capo... Va bene, comunque io ti chiedo naturalmente quello che hai sentito dentro perché giustamente è una domanda da fare in queste situazioni. Questa è un'emozione grandissima che Don Guido ogni anno ci regala, e quindi già è il terzo anno che noi siamo qui impegnati per questa manifestazione. Comunque è un grazie che solo a Don Guido possiamo dare a tutti quanti noi. Con il coinvolgimento di tutti è una cosa bellissima, cioè non ci sono parole. Poi niente, grazie, grazie. Cosa possiamo dire? Grazie a te allora. Grazie a tutti. Allora, il nostro caro Nicola ha il cognome e mi sfugge. Pignataro. Pignataro, scusami. Siamo amici e mi sfuggiva. Quante volte hai partecipato a questo? Questo è il primo anno. Primo anno. Dunque che hai fatto come... La parte del boia, del giustiziere, del fustigatore. Come ti sei trovato in questo gruppo? No, sono stato abbastanza coinvolto. Mi ha fatto piacere partecipare. Spero di partecipare anche l'anno prossimo. Benissimo, ti ringrazio. Vieni qua. Io te lo chiedo, lo so, però è bene che ti presenti perché oltretutto sei sposato a Trecchina, però non sei di Trecchina, sei... Di Lauria. E ti chiami? Nicola Olivieri. Questa sera hai rappresentato Pietro. Che cosa hai provato? È un'emozione fortissima. È il terzo anno che la rappresenta la passione. È sempre un anno più emozionante dell'altro. Quest'anno fosse in un modo particolare perché sei stato più dentro, mi sembra. Sì, quest'anno abbiamo ancora più dentro, ci siamo sentiti ancora più dentro, coinvolti. Benissimo. Scusa se te lo chiedo, ma mi cinguriosisce. Sai in qualche altro paese, nelle vicinanze, se si fanno queste rappresentazioni? Che io sappia no, solo a Trecchina lo stiamo rappresentando. Benissimo, ti ringrazio e buona serata. Allora, noi lo chiamiamo Pippo, però ti chiami? Giuseppe Conte. Allora, sei stato sempre uno di quelli coinvolti, abbiamo lavorato già insieme con il risorto quest'estate, facevi la parte di Tommaso. Stasera invece? Stasera ho dato la voce al narratore e poi ho fatto il Cireneo, cioè colui che ha aiutato Gesù in una parte del percorso verso il Golgotha. Chi meglio di te può dirci com'è andata? No, la cosa bella è che si è creata un'atmosfera particolare, forse questo è il terzo anno, comunque questo forse è stato quello più coinvolgente, perché ho visto proprio la gente che si è fatta trascinare, come una folla incuriosita, ma più che altro coinvolta, emozionata dalle vicende. Allora, un'ultima domanda, in pratica, quante volte abbiamo provato? Questo lo devo dire veramente, all'aperto solo ieri sera in effetti, quindi si è trattato di un paio d'ore, perciò siamo molto contenti di com'è andata la cosa e ancora commossi penso dentro. Queste sono emozioni che comunque si portano anche a casa, è bello. Allora, chiudo ringraziando naturalmente tutti, in modo particolare Don Guido, e lecco. Ciao, buonasera.